Amici Blanetv, siamo tornati al Manduca! Qui sotto quello che dici sempre te, sotto il nostro porte di Brooklyn, sotto l'Indiano di Firenze, c'è un locale che fa l'estate a Firenze. E' l'estate di Firenze, bordo piscina, tanta bellissima situazione, cominciamo dalla scena con Blanetv, Marco Picciani, Laura Capondi, Manduca! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Siamo nel bel mezzo della scena spettacolo del Manduca! E' uno spettacolo! Grazie a tutti! 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 Che si dice? Aguri in bocca al lupo? Che si dice? Congratulazioni! Grazie! Grazie! Grazie a tutti! Aguri ai fili maschi! Aguri ai fili maschi! Aguri ai fili maschi! Aguri ai fili maschi! armatissimo bella una macchina fotografica importante per fare che cosa? per fare le foto in un locale importante il fotografo ufficiale del Manduka allora te stai fotografando tutti? tutti e tutti molto più tutte che tutti e dove si possono trovare? nella pagina del Manduka di Facebook le mettiamo due giorni dopo della serata tra due giorni si rivede le foto siamo quasi pronti per cominciare questa sabato notte firmando Light B Manduka cominciamo a guardare con noi qua il Manduka ha anche gradito un po' l'eleganza ma qui abbiamo il ragazzo più fashion del Manduka abbiamo eletto il più fashion del Manduka buonasera a tutti comunque buonasera ti chiami? Antonio, molto piacere è l'ultima moda poi Firenze è uscita da poco da quello che è PIT PIT Immagine quindi la moda che portiamo che esportiamo poi in tutto il mondo dall'Italia a parte poi in tutto il mondo tu sei più fashion di tutti vorrei capire se il papilla ha il pantalone così la scarpina giusta funziona con le donne? sempre l'uomo di classe si nota è un po' l'uomo di classe Grazie a tutti 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 Grazie a tutti